Cosa sono le vitamine e come possono influire nella nostra vita? Sono queste le domande a cui cerca di rispondere la Federazione Italiana dei Farmacisti e la Società Italiana Pediatrica. Colmare le curiosità sulle vitamine del gruppo B è l'obiettivo di una campagna, infatti, il cui nome è proprio la Settimana Bianca, che parte in questi giorni e coinvolgerà per tutto il mese di febbraio 500 farmacie di 11 città, Padova, Bergamo, Caserta, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Varese e Verona. La Settimana della Vitamina B si propone come finalità anche quella di ribadire il ruolo fondamentale del farmacista, quale punto di riferimento imprescindibile per ottenere un buon consiglio, un suggerimento prezioso, instaurando un rapporto privilegiato e di totale fiducia. Le vitamine non possono essere sintetizzate dal nostro organismo, è per questo motivo che devono essere assunte regolarmente e uno dei modi è proprio un'alimentazione corretta e adeguata. Laddove questo non fosse possibile, è necessario integrare per colmare eventuali carenze. La Vitamina B si rivela fondamentale per svolgere attività fisica, per le donne in gravidanza, prima e dopo l'influenza, per tutte le persone che studiano e per i bambini che vanno a scuola, per favorire la concentrazione e combattere la faticabilità e la svogliatezza. Migliorare la qualità della vita è possibile e i passi da compiere sono molto più semplici di quello che pensiamo e partono proprio dalla nostra tavola.